Ciao a tutti, cinghialotti e cinghialotte, ben trovati nel nuovo appuntamento con le Fat Times e procediamo subito con Silvio Travuso che ci leggerà, con i mezzi moderni, la prima domanda Siamo modernizzati a bestia, allora, i tre player d'Italia ci chiedevano di fare una live su Steam in un gioco accessibile a tutti, quindi un free to play, consigliava un sabato e la domenica Allora, le live le stiamo parlando in questi giorni perché ci dovrebbe essere voce di corridoio, diciamo, leggende metropolitane l'opportunità che da noi arrivi questa fantomatica connessione a fibra E siamo un tantinello per i 18 No, è abbastanza, insomma Io sono pagatissimo, non sono contento per niente Anche perché loro hanno i 20 mega e sono ancora con i 7 mega Però, insomma, comunque i 20 mega per video, caricarli e soprattutto fare live è veramente lo stesso Per live è possibile, se non vale giusto parlate senza giochie O facciamo tipo il video a 1020, sì a 1020, a 120 Eh sì, penso che forse a 480 ci si arriva male Sì, esatto Però Comunque, finché non ci sarà la fibra, non possiamo farlo Aspettiamo e vi aggiorneremo di conseguenza E poi sì, volentieri ci sorganizza anche per fare qualcosa con... Eh beh, a quel punto è grande Sì, qualche live, faremo live più frequenti, insomma, a quel punto sicuramente Tu si giorni a tutte l'ore Sì Allora, Memo Yt O it Allora, ci aveva chiesto Che ne pensate degli strategici Se eravamo più propensi verso titoli alla Age of Empires o Stronghold Oppure simulazione dei titoli Paradox Age of Empires, Stronghold No, io, cioè, posso dirlo subito che, nel senso, ho sempre adorato la saga di Stronghold Proprio dai primi, li ho sempre giocati... Penso che quello che abbiamo giocato più, forse, è stato il Crusader Eh, ci siamo avanzati, sì, per quanto l'ambientazione preferivo quella dello Stronghold normale Piuttosto che quella del Crusade, perché comunque è tutta l'ambientazione desertica, insomma, così Ora, ultimamente è uscito quello nuovo Tossimo Sì, se non lo sai, ma io sì, perché lo seguivo Quante cose che sa Eh, non è male, anche se gli ultimi Stronghold sinceramente non è che mi abbiano fatto impazzire Per carità, dopo le dovute pace e aggiustamenti diventavano comunque giochi gradevoli Però all'uscita erano sempre o buggati o comunque avevano un po' di problemini E non è che mi facevano impazzire, insomma Quando sono passati al 3D, sostanzialmente, hanno avuto dei problemi Però come gioco, insomma, mi è sempre piaciuto E oltre a quello, come strategici, vabbè Parlo però di strategici dalla parte del sollevante Adoro Fire Emblem e titoli simici, insomma Come anche Final Fantasy Tactics, insomma, questi qua Vabbè Final Fantasy Tactics sì, sì, la provo Io entrambi Ho sia titoli Paradox, mi manca Stellaris Che ancora non ho avuto l'occasione di giocarci, di provarlo E Age of Empires, Starcraft, Commode Conquer Se andiamo ancora più indietro, ovviamente solo questi tre titoli Ma l'ho giocati tantissimi E si ha i titoli più simulativi Quindi gli esempi sono gli Europa Universalis e compagnia Quindi come sfondi una porta aperta in entrambi i casi E Tarabuso? Noi io sono lo strong Il Paradox non sapevo nemmeno esisteva Quindi andiamo oltre Marco Fusteri Frust Frust Ormai io vi conosco tutti Perché sei abituato a chiamarvi Sì, hai sempre pensato che vi chiamano Siamo sempre abbastanza Io non mi ricordo manco mio di nome Marco Frusteri quindi Ci chiede che lavoro fate E perché vi chiamate con questi nickname Che lavoro Allora Io ho un'azienda agricola Non so se avete visto anche i vlog su Darksul3 Quando lo avevamo accennato Che l'avremmo fatto Eravamo tutti dietro i pomodori Perché si lavorava tutti insieme Quindi io Diciamo ho questa attività E noi non abbiamo un'attività Nel senso Si fa quello che riusciamo a trovare Purtroppo Non è semplicissimo Nella nostra zona specialmente Trovare un lavoro Diciamo il cosiddetto posto fisso È proprio una cosa abbastanza impensabile No, un posto fisso no Se troviamo un lavoro stazionale È già tanto E quest'anno sarà difficile anche quello Comunque Sa vendersi minimamente Non ho nemmeno cominciato Praticamente la mia carriera In questo campo Si può dire E quindi niente Diciamo che Siamo due disoccupati E un boss della mafia Esatto Che era la propria sottodomanda? Ah sì The nickname The nickname Ah il mio nasce O sarà nel 98 Giù giù di lì Praticamente Era La mia prima partita Advanced Dungeons & Dragons Se non ricordo male E dovevo scegliere un nome Per un personaggio Io Fantasioso Lo andai a cercare in internet Con il mio modem A 33k E trovai Un tizio Il primo che ha trovato Quindi Esatto Trovi un tizio Che fece un mago E lo chiamò Vessor Quaid Vessor Quaid Ottavo Terzo Non mi ricordo Quella parola Vessor mi è piaciuta E da lì Me la so sempre portata dietro Che era una storia Dietro a questo Io Griffias Allora Penso che la prima volta Che l'ho usato È stato quando Si giocava su World of Warcraft Si perché L'ho inventata Apposta per il gioco E molti Pensavano Che mi fosse riferito A Griffith Il personaggio di Berserk Ma in realtà No Non c'entrava niente È Griffith Che si è Esatto È lui che si è No Semplicemente Ho preso Come spunto Il grifone Che è comunque Un animale Una bestia mitologica Che mi è sempre piaciuta E Ho un attimino Intralazzato col nome Ho avuto un po' di Griffith Ho detto Ah figo Mi piace È usato da quell'ingiorno Sono Griffith E Tarabuso Eh Allora Il mio nickname Nasce nel lontano Boh Forse 2002 Quando ho iniziato Le superiori Non mi ricordo Minimamente Grazie al Simpaticissimo Nonnismo Che esisteva Sui Pullman Perché noi C'avevamo la scuola Delle superiori Perlomeno Io andavo A Grosseto Sì Andavamo insieme Perciò E quindi Quelli facevano La prima superiore C'era il classico Vieni in fondo E ti facciamo fare Cose belle Spero che Quelli della mia età Ho detto Ma a pezzo Tuttora esista Questa Bellissima Ma nelle città Non esiste Esiste solamente Zone periferiche Nelle città No forse È vero Vabbè Comunque Mi avevano chiamato In fondo E mi avevano chiesto Di fare dei versi Di animali particolari Fra cui mi chiestero Il Tarabuso E io dovevo simulare Il verso del Tarabuso Pur non sapendo Nemmeno che era Effettivamente Un animale esistente È un tipo di volatile Che sembra Scopro Una quale Non mi ricordo bene Comunque è un volatile Esistente E da lì Tarabuso Me l'ho incamerato Nel mio sub caution E poi Il nuovo è ritornato fuori Non si sa come mai Belle storie Passiamo oltre Che c'è un lacrimuccio Sufis Eh già Ferx03 Ci chiede Quanti anni abbiamo Ordine decrescente O crescente Crescente Allora parto io 27 Anche se sono Nell'anno del 28 Infatti non mi tornava Il mio capo Io ho 29 E io ho 36 Vecchio Già 35 Poi ce l'ho 36 Vincenzo Caro tenuto Che ci chiede Qual è il vostro Youtuber preferito Ehm Io Tobi Io sono cresciuto Con Iotobi Ma non proprio L'attuale Iotobi Quello dei film Io Iotobi e Farenz Ci metterei Iotobi e Farenz Proprio perché sono stati Quelli che mi hanno avvicinato Poi A Youtube Poi se devo dire Altre persone Che ho conosciuto È un altro discorso E poi ci sono altre persone Che da lì Ho iniziato a seguire La Mister Delica India e compagnia Ma All'inizio Se devo dire Proprio Il preferito Che seguivo Che mi ha introdotto Verso Youtube Quindi ci sono Rimasto particolarmente Legato a Iotobi E appena dopo Farenz Sì Iotobi tutta la vita Anch'io È il mio idolo Sì no Anch'io Adoro Iotobi E vabbè Però Mi sono anche Spostato un attimino Su altri generi Diciamo Ho adorato tantissimo Adoro tuttora Orion O i vecchi Ora dobbiamo stronzate Per capirsi I player inside Li seguo tantissimo E Beh essenzialmente Diciamo Questi tre Sono quelli principali Anche se in realtà Ne seguo veramente diversi Specialmente ora Poi Mi sono Ho ampliato il mio roster Veramente tantissimo Però Anch'io Ben o male Sono cresciuto con Iotobi Forse E Tobi Sì perché comunque I player inside Che di Orion Ora Sono meno più Dopo Però Diciamo questi tre Sono i miei tre Principali Raffaele Cirillo Ci chiede due Bellissime domande La prima Ho perso Aspettate Chi di voi Cucca di più E qui Attenzione Io ovviamente Certo Ovviamente Sì sì Io ovviamente Finiamola qua Perché conteggio è troppo Tre nerdoni Come noi Che ve lo diamo Che ve lo diciamo a fare E poi la seconda domanda È qual è il survival Che vi è piaciuto di più Odio il survival C'è Ma adesso Non mi è piaciuto di più Rast Se devo dire A ore giocate E Rast Però il Rast Pre patch Cioè pre Quando era uscito Perché capissi Quando è uscito Io l'ho giocato davvero tanto E penso anche con voi Sì Il primo Rast Quello che ora Non mi ricordo Come La lega Bravo Il legacy E ci hanno giocato davvero tanto Sì Un altro che posso mettere La mod Di DayZ Non il DayZ Che c'è adesso Ma la mod Un altro che ho giocato tantissimo E poi Mi ha promette questi due Proprio Se devo pensare A questa A questa parola Questi due Io Perché io survival Proprio Non mi piace come gioco Però Se devo dire una cosa Che non è esattamente Un survival Però diciamo Come ci sapete Forse un pugno Della Stovass Che comunque viene anche Beh la Stovass Mi è piaciuto tanto Però non è Lo vedo Non è lo vedo Un survival Viene definito Anche come Come survival Ma non è un survival Io lo vedo più come Il gioco in cui mangi Fai le cose Il bello Sì esatto Infatti Anche se non è per me Il survival Più sprettamente Specifico E quello lì Insomma E se devo parlare Proprio di quel genere Lì invece Non c'è niente Cioè non mi piace Come genere Semplicemente Mi adebo e basta Quando si va insieme Insomma se stiamo in gruppo Si ce lo gioco volentieri Altrimenti non mi Non mi attira Ora volentieri Un parolone Sì Tanto che sta in compagnia Dai diciamola così E signor Sanuso Rust concordo anch'io Ci abbiamo passato Un bel po' di tempo E le meccaniche Il crafting E tutto il resto Mi è sempre piaciuto Sì Un po' Se è perso Magari anche Per la gestione De Sebre E quant'altro Daisy Uguale All'inizio Mi era piaciuto tanto Poi Dopo un po' Ci ha stufato Ora sicuramente Come ce l'avete Ma è bellissimo Ci avete commentato Che è migliorato Lo proverò Volentieri E voglio ritornarci Per vedere come è migliorato Subnautica Fantastico Anche quello È uno dei migliori Che ho provato E come abbiamo annunciato Nell'ultimo video Insieme a Alien Tear Seven Day to Die Anche se Ci abbiamo giocato poco A dire il vero Quindi non possiamo dire La nostra Però Ci hanno parlato bene Ultimamente Con Alien Tear Faremo questa serie Proveremo una serie survival Inclusa le altre Poi faremo un vlog In cui vi spiegheremo Anche quale interrompiamo Quale portiamo avanti Perché Alcune per esempio Non hanno risposto Come aspettavamo Sia al nostro modo Di vedere Il gioco Che A livello anche Di visualizzazioni Quindi Se vediamo che non piace a nessuno È inutile che la portiamo In una serie Vabbè Un discorso che poi faremo a parte Con questo direi che possiamo Salutarci qui Finite domande? Finite domande Come al solito Fateci le nuove domande Qua sotto Scrivete quello che volete A risposta A quello che abbiamo detto Siete liberissimi E se ne avete altre Scrivetele sotto E noi risponderemo Nel prossimo Video Fact Times Ciao 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 Fax03 Ci chiede Quanti anni abbiamo Andiamo in ordine crescente o decrescente? Decrescente No decrescente Ok da più giovane Decrescente Decrescente Da plurata Ah Non si fa una domanda Mi chiamo questa scenetta Ok Allora D'accordo 27 No no Spero Non ripeto La domanda da capo Tagliamo proprio No perché ragazzi No Brottissima Sembrava un uggoli Mettilo Mettilo Allora